Grazie 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 Questa si vede bene che c'è il peso indietro, questa la prendiamo come esempio, eh. Dai Luca, dai da dietro, eh. Se no interrompo il caricamento, eh. Dai. Dai. Vieto. Buono. Questa è, questa è. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.